Ciao ragazze bentrovate, oggi vi mostro come rendo chic i miei jeans bianchi strappati. Vi faccio vedere una carrellata di outfit, di abbinamenti, mantenendo sempre lo stesso paio di jeans e la stessa t-shirt, o comunque cambiando il modello, rimane comunque una t-shirt bianca, alterno giacche di lino e accessori per far ruotare i vari outfit e renderlo non solo un outfit da giorno adatto per l'ufficio, ma anche un outfit da poter riutilizzare magari cambiando una pochette o un paio di scarpe per la serata, per un aperitivo, magari in compagnia di amici o del nostro amore. Quindi io spero che questa idea, questa tipologia di video vi piaccia, vi tenga un po' di compagnia, noi come al solito ci vediamo molto presto, un grande bacio, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.